giorgia meloni festeggia i sette anni della figlia cerca le meraviglie con il cuore fragolina il post della premier sui social per il compleanno della figlia ginevra per una giornata tutto il resto poteva attendere giorgia meloni ha festeggiato sabato i sette anni della figlia ginevra a vota dal compagno andrea giambruno organizzandole una festa da sogno proprio come desiderava lei amici e compagni di scuola giochi e tanto divertimento poi la foto davanti alla torta tra le braccia della sua mamma è questa l'unica immagine del compleanno della bambina condivisa sui social da giorgia meloni che ha voluto fare alla sua ginevra degli auguri speciali hai scelto come tema della tua festa di compleanno alice nel paese delle meraviglie si legge nel post nel tuo cammino g come in quello di ognuno ci saranno giorni belli e giorni difficili vittorie e sconfitte lacrime risate emozioni paure ma ricorda che il mondo e la vita sono pieni di meraviglie per chi sa guardare oltre l'apparenza ci sono meraviglie ovunque nelle cose apparentemente banali nei momenti in cui non te lo aspetti perfino nelle difficoltà possono nascondersi delle piccole meraviglie devi cercarle con il cuore scrive mamma georgia non con gli occhi auguri di una vita meravigliosa fragolina in questa foto giorgia meloni è raggiante ma anche molto emozionata mentre stringe tra le braccia sua figlia è lei senza alcun dubbio il suo unico punto debole grazie grazie grazie